Gli abbiamo messo, vedi, i denti sono veramente profondi, abbiamo messo su ora tanto mercurio e cromo, no, betadine, ecco, vediamo se si risponde, se riprende, le gambe sembrano a posto, anche se trema, forse però hai la paura, no, le gambe sembrano reattive giuste, vi tengo aggiornati. Fare video del genere non è semplice, la faccio molto riassuntiva. I cani dei cacciatori hanno ucciso tutte le galline che ho, erano 20 galline, sono alla fine tutte morte. Dopo vi spiego un po' la dinamica o altro, però anche lì il racconto della dinamica è un racconto, secondo me, superfluo, perché quello dopo che conta sono i fatti, non le intenzioni. I fatti parlano chiaro, oggi non ho più una gallina. È da tempo che vi racconto i problemi che abbiamo al podere con le persone, non stiamo parlando di animali selvatici, stiamo parlando di persone. Quindi andando indietro abbiamo qualche anno fa l'avvelenamento delle galline perché è cattiverio, è stato lanciato del veleno. Vedete questo qua è veleno. La sofferenza più grande è che tutte le uova che nascono, quelle, quelle, cioè nascono, devo buttarle. La padovana si sta riprendendo molto ma molto bene, quello che mi preoccupa tantissimo è il mio gallo amato, è il mio preferito. È proprio male. Passiamo ai problemi che abbiamo avuto quando hanno lanciato i sassi agli asini. Tra l'altro lì c'è stata anche una denuncia proprio a delle persone che stanno andando avanti perché li abbiamo filmati con gli asini che erano stati toccati, zoppicavano. Mi fai vedere che cosa c'hai? Non riesco a capire che cavolo ha. Vedi con la mette giù male? Sì, ma che cosa hai preso? Cosa hai preso? Mi dici? Mi dici qualcosa che stavi bene? Posso vederti? Non riesco a capire. Se la tocco qua così, non so se ha paura o... Sembra un muscolo... Mi fai vedere? Mi fai vedere, per favore? I problemi che abbiamo avuto gli scorsi anni con dei cacciatori che non sono cacciatori, sono dei maleducati. Quindi filmati più volte, con i cani passavano in mezzo ai terreni che erano recintati, vedendo gli animali al pascolo se ne fregavano, le pecore scappavano, scappavano gli asini che facevano danni perché entravano dentro i cani e loro avevano paura. Proprio per questo, anche avendo gran parte della community contro, ho portato via gli asini perché lì al podere non potevano più stare, non erano sicuri quando partiva la stagione di caccia e li ho portati via un mese fa. Eh? Eh? Guardate, là ci sono anche gli amici cavalli. Vedi? Eh? Dai che mi accompagno alla stalla. Dai, su! Dai! Il problema quale è stato che finché c'erano gli asini che scappavano, i cani se ne stavano lontani. Purtroppo al podere c'erano solo le galline. Quindi alle nove veniva aperta, veniva aperta la porta automatica, sono entrati dei cani e hanno spaccato tutto perché la porta era scassinata. Quindi un cane di abbastanza grande taglia, i denti sono quelli, sono arrivato alle nove e mezza, piume da ogni parte, le clip degli animali che stanno morendo non ve le faccio vedere perché fa soffrire e quindi ho trovato tutte le mie galline uccise. Questo perché? Perché purtroppo questi cacciatori che sono anche gente che non sta rispettando la legge, si mettono sopra la collina, lasciano i cani da sotto dove ci sono i miei terreni in modo tale che corrono, abbagnano, gli animali salgono e nel salire incontrano loro che si mettono sopra a sparare. Anche se chiamano i cani, intanto che loro salgono i cani e rimangono nella parte bassa, purtroppo fanno strage. Il podere, la mia terra, la mia proprietà, recintata, non è più un terreno sicuro. Questo perché? Perché c'è gente che vuole cacciare. Moralità? No, non mi interessa. Io non sono neanche a priori contrario alla caccia, ma sono contro al poco rispetto nei confronti. Uno, della proprietà privata. Se il mio terreno è elettrificato e è recintato, vuol dire che ci sono degli animali al pascolo. Ho capito che tu devi fare un giro più lungo, probabilmente allungarla di un chilometro. Ma non butti per terra il recinto. Non lo tagli. Controlli i tuoi animali. Eh, ma siamo a caccia e gli animali sono liberi. Se sai che lì ci sono degli animali al pascolo, lo metti a guinzalli e dopo, nella zona libera, non di proprietà privata, fai quello che vuoi. Io non ho parole, ecco, su questo. Purtroppo non sono morte subito tutte le galline. Galline morte, ce ne erano dodici, le ho raccolte, le ho buttate via. Ce ne sono state, sì, sette, otto, che hanno subito una lenta agonia. Lì è stata colpa mia, ve lo dico. È stata colpa mia perché vedendole così avrei dovuto ascoltare il consiglio che mi hanno dato tanti altri allevatori, di ammazzarle io subito. Mi son pentito di averle ammazzate subito. Ora vi ho fatto vedere quella che stava meglio e pensavo che sopravvisse. Beh, se non è sopravvissuta. Sono morte di una, credo, atroce lenta agonia, durata otto ore. È forse stata la cosa più straziante perché, insomma, vedere gli animali uccisi ti segna, ti fa soffrire, soprattutto sentendo i cani, i cacciatori che li urlano. Non sono voluto andare su apposta perché non sapevo come avrei reagito. Non ho chiesto neanche il rimborso perché dopo, quando parlavamo, eravamo lì al bar incazzato. C'erano lì dei cacciatori che fanno, ma no, ma guarda, se sai che è stato lui, va agli a chiedere i soldi di rimborso. Ti fai dare 30 euro a gallina e va bene. Ma non è un fatto di soldi. Sono animali. C'è qualcosa di più. Comunque la cosa che mi ha fatto soffrire di più è vedere queste galline. Sino l'ultima è morta alle sette e mezza di sera, proprio in agonia estrema. Perché quelle che sono morte subito sono state quelle che sono state o azzannate per la testa o le parti più sensibili del corpo. Le altre si sono spente per quanto le ho medicate subito, ho cercato di fare il possibile, si sono spente così. Settimana prossima sposto le galline, cioè il recinto, perché ora le galline non ci sono più. Riprenderò subito le nuove galline e le porterò qua a Labrina. Labrina l'abbiamo recintata dopo l'anno scorso dove siamo usciti con i cacciatori. Effettivamente abbiamo fatto un buon lavoro di protezione. E quindi anche se sento e vedo ogni tanto passare i cacciatori, in verità i cacciatori non passano più di qua perché gli tagliamo proprio metà il passaggio tra i vigneti e quindi rimangono dall'altra parte. Quindi quest'anno non ho visto neanche un cacciatore. Abbiamo un problema comunque che rimane, che è quando incominciano a liberare le lepri, perché quando liberano le lepri ci ritroviamo dieci lepri tra gli ortaggi, però quello non si può fare nulla. Vorrei concludere il video in modo speranzoso, in modo diverso. Io, oltre alle galline, hanno reso invivibile il podere. Il podere è stato dove ho incominciato, era a casa mia. Questa cosa qua è la cosa che mi ha fatto più soffrire. Ve lo dico molto semplicemente. È quello che mi ha ammazzato. Non so se fare morticole al podere, per i prossimi anni di sicuro dovrò ribaltare il podere e avere un altro piano, perché è dura. Niente, questo qua è il tutto. Vi chiedo però di... So che un video del genere crea tanta rabbia. Vi prometto che nel giro di due o tre giorni vedrete un po' la rinascita. Quindi già stamattina ho smontato già subito il pollaio. Devo ancora montarlo qua a Labrina e andrò a prendere nuove galline, perché per quanto c'è stata una forte mortificazione, non ci si deve fermare lì. C'è da dare un forte segnale anche a noi stessi. Farmer, ci vediamo al prossimo video. Speriamo che sia un video diverso.